bella regà qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ragazzi oggi semi money freeze per i giocatori di one e ps4 questo metodo funziona solo sulla old gen quindi sulla vecchia versione di gioco come facciamo a fare semi money freeze ci serve intanto ragazzi una base di soldi quindi io vi consiglio di arrivare prima 15 milioni 20 milioni una volta che siete arrivati a quel punto facendo colpi ragazzi o qualche duplicazione vi andate a creare il secondo personaggio ragazzi una volta che siete qua se già avete il secondo personaggio come ce l'ho io su questo account raga semplicemente switchiamo una volta a destra cancelliamo il secondo personaggio e una volta che avremo cancellato anche secondo pg possiamo iniziare ricreiamo ragazzi il secondo personaggio e una volta che abbiamo ricreato secondo personaggio andremo online con secondo pg ragazzi come ben sapete la banca è in comune col primo pc e secondo pg quindi andremo a creare il secondo personaggio e andremo a fare il glitch con secondo personaggio che è l'unico metodo funzionante al momento e dovete anche ovviamente ragazzi vendere poi i veicoli che andremo a mettere sul secondo pg quindi o vi prendete ragazzi delle deluxe o che comunque sia hanno aumentato il prezzo e la vendita è quasi di 3 milioni cioè non è per niente male oppure se avete qualche soldino in più raga investite sul sul come il bunker o il night e il terabyte per aggiungervi le oppressor e vendervele perché ogni oppressor che andrete poi a vendere saranno 3 milioni e 8 si che ne dovremo spendere 8 ma saranno 3 milioni e 8 a vendita ragazzi quindi a quel punto fate 3 vendite avete fatto 10 milioni quello sta a voi quindi una volta che siamo ragazzi spawnati in una free mode io vi consiglio anche di andare in sessione solo a inviti vi dirigete dall'unico appartamento che vi regala rockstar quando ha creato il secondo personaggio se invece si bagga il signore e non ve lo regala raga comprate un appartamento del cavolo una volta che avete l'appartamento e siete all'interno nel garage niente di più facile apriamo il nostro sito ragazzi andiamo su warstock e una volta che siamo su warstock dovremmo andare a comprare o le deluxe ragazzi e una volta che ho comprato le deluxe potete subito andarle a vendere dallo santos custom oppure se fate come ho fatto io che ho comprato le oppressor dovrò per forza raga andarmi poi a recuperare il terabyte oppure il com con l'officina all'interno in questa maniera poi potremo vendere le oppressor quindi dovrete investire quei 2 o 3 milioni ragazzi 3 anche qualcosa in più forse per comprare o il bunker o il night con il terabyte per poter vendere le oppressor ma poi andremo a fare un sacco di soldi nel venderle ragazzi quello sta a voi a secondo il vostro budget una volta che abbiamo comprato le 10 oppressor le 10 deluxe stiamo fermi ragazzi in questa schermata è fondamentale non dobbiamo uscire dal sito ma dobbiamo far staccare la rete quindi o andate nel vostro menu ps o xbox andate su impostazioni rete e fate offline online oppure fate come ho fatto io raga che ho la cablata ho stoccato il cavo e riattaccato il cavo ci darà questa allerta e una volta che abbiamo accettato questa allerta ci rimanderà nella storia una volta che siamo arrivati nella storia niente di più semplice raga start online sessione a inviti e ce ne torniamo di nuovo online e una volta che siamo online sbada bam ragazzi come ben vedete in alto a destra ci sono i stessi soldi di quando abbiamo iniziato il glitch ora vi faccio vedere con uno screenshot e nel frattempo raga cambiamo il meccanico e guardate un po abbiamo tutte le oppressor quindi ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video commentate iscrivetevi supportate il canale e controllate voi stessi con questo screenshot raga che i soldi non li abbiamo persi questo money freeze chiamiamolo così semi money freeze funziona solo sulla vecchia versione di gioco quindi non mi state neanche a chiedere se va su next gen o la versione di gioco nuova se volete continuare raga dovete prima vendere tutti i veicoli dopodiché dopo che avete venduto tutti i veicoli dovete ricancellare il secondo personaggio e riniziare il tutto da capo io spero che questo video vi sia stato d'aiuto e alla prossima spada bam mi raccomando attiva la campanellina per essere aggiornato sui miglior glitch di gta 5 online iscriviti al canale Grazie a tutti.